Buon pomeriggio amici e amici! Come va? Come state? Spero tutto bene! Ma prima di tutto il saluto della nostra dolcissima regista! Ciao a tutti! E soprattutto Halloween! La nostra giornata di Halloween è stata un po' strana, un po' particolare, quasi un po' stregata. Il pensiero era... Dolcetto scherzetto? Perché, ok, no? Dolcetto scherzetto ci sta! E alla fine per una serie di cose mi sono completamente dimenticata di fare il make-up a tema Halloween. Perché avevamo addirittura un tema arcobaleno quel giorno lì. Quindi, stranissimo! Ed erano giorni, perché già gli avevo fatti tre make-up ispirati ad Halloween, ok? Ne avevo fatti tre, perché uno era all'inizio senza disegno qua sulla guancia ed era ispirato alla zucca, no? Sui toni dell'arancione. Poi ne avevo fatto un altro ispirato al pipistrello con... al pipistrello, all'edera di sicuro, perché avevo fatto lo stambino con l'edera. No, è uno, il palloncino, il pagliaccio hit, ok? Sì, sicuramente è quello. E invece la zucca, mi pare che avevo messo uno sticker della zucchetta. Ok? Sì, quindi avevamo fatto qualcosa un po' a tema zucca. Poi mi piacerebbe farne un altro con un disegno qua sulla guancia. Poi il palloncino di Hit e l'edera ispirata a Ivy Poison. Quindi è andato, diciamo, io volevo farlo anche assolutamente... Mi sembrava un ragno qua sopra, non ce la posso fare, ho il terrore adesso. Volevo farne un altro sicuramente nella giornata di Halloween. Poi mi sono dimenticata. Succede, succede, a volte lo fa. Mi sembrava fosse, no? Il giorno dopo e quindi... Quando mi sono ricordata, ormai era troppo tardi, perché comunque qua poi volevano festeggiarlo, ok? Però è stata invece... E comunque a casa l'abbiamo festeggiato, nel senso, poi alla sera... Alla sera, anzi, già abbiamo provveduto, no? Con la regista a truccare, anche l'aiuto regista, all'opinionista, agli amichetti. Quindi abbiamo fatto, però è stato dei make-up, cioè così tipo truccabimmi. Però, per me in primis è stata una giornata stranissima, stranissima. Doveva essere una giornata di riposo, perché avevo preso una giornata, ve l'avevo anche accennato, per fare delle cose qua a casa. Io ovviamente, assolutamente, non sono riuscita a fare un beato fico secco. Zero. Perché? Cioè, bisogna anche dare priorità un attimo agli stati d'animo. C'è mancato un beletto che vi registrassi il video da sola, piangendo. Perché, sì, è stata una giornata fortemente disturbatoria, no? Sono successe tante cosettine antipatiche. Iniziando dalla mattina, dove volevo utilizzare il bancomat e non sono riuscita. Non mi funzionava, assolutamente. Il bancomat agli altri funzionava e a me sì. E voi direte, avrei spesso tutto. No, a me no. Assolutamente. Per fortuna, ho sempre una carta di scorta, con dentro proprio quattro soldi in croce che utilizzo anche online. E quindi ho potuto tranquillamente utilizzare quella. Però non mi suonava giusta la faccenda. Ho detto, già avevo sentito la mattina l'oroscopo, che non lo sento mai perché io non amo ascoltare l'oroscopo. E mi diceva, non puoi fare niente con gli altri, tipo, no? Tanto ti va storto, rimanitene per conto tuo. E io, ok. Come mai mi fai tipo remita, oroscopo? Vabbè, e già quello mi ha turbato. E voi direte, eh, ma che, eh, mica, quello non è un turbamento. Cosa gli è successo a questa? E beh, quando ben ero pronta con la sistemazione in casa, a un certo punto, siccome, sapete che vi ho detto che mi sentivo male da un paio di giorni, mi sentivo strana. Avevo tanto fastidio a una gamba. E benché io mi fossi anche fatta la doccia tantissime volte, da domenica, che forse non mi ricordo se vi avevo raccontato, era andata nell'orto, a tirare su le ultime patate che avevamo piantato. Quindi ho zappato queste patate col marito, ho tirato su. Però, io, da domenica, ovviamente, ad Halloween, mi sono fatta la doccia, ovviamente, tutti i giorni. Ma io non so come mai, non mi sono mai accorta che nella mia gamba c'era attaccata questa. Che stava ciucciando sangue dalla mia gamba da domenica. Quindi era bella gonfia e quando l'ho vista, oddio, a me non mi fa particolarmente schifo, eh. Io non ho terrore delle zecche e neanche particolarmente schifo. Mi sono simpatica, non è che ne voglia adottare una e tenerla qua a casa o fare un allevamento. Ma non ho paura, ecco. Però mi scocciava tantissimo che si fosse attaccata sulla mia gamba e soprattutto che avesse potuto diventare così grossa, perché è diventata abbastanza mastodontica e tantomeno la volevo tenere neanche un secondo di più, perché era attaccata da giorni. E io mi sono lavata con la spugna. E io non so, era... Adesso vi faccio vedere perché l'ho cerchiata. Non avessi attaccato, ho cerchiato col pennarello. Come fanno in brondo soccorso. Io non sono andata in brondo soccorso, già ve lo dico. Ah, ma non ho portato! Vado assolutamente a prenderla, la pinza, per farvela vedere, perché l'ho lasciata giù appoggiata sul divano. Un attimo solo. Abbiamo recuperato la pinzetta per togliere le zecche. Io questa l'avevo comprata perché è su Amazon, perché è molto utile averla quando si abita in zone, noi siamo in montagna, in zone dove ci sono zecche. Da noi, sulle Dolomiti c'è, anche forse per la presenza, no? Dei cervi, cosa dici? C'è una grossa percentuale di zecche, anche solo andando nell'orto. Non è che noi dobbiamo andare chissà dove. Quando scendiamo nel nostro giardino, nell'orto, c'è la possibilità, purtroppo, di beccare una zecca. Noi, bella notizia, siamo tutti vaccinati per la zecca, per la malattia, cioè c'è il vaccino apposta in queste zone, che è anche assolutamente gratuito, perché è una zona a rischio per le zecche, e quindi, assolutamente, se uno lo chiede, lì viene fatto il vaccino con i vari richiami, perché ogni tot va rifatto. Però, siccome a me non era mai successo di prenderla, dico la verità, però avevo fatto lo stesso il vaccino, e sono molto contenta di averlo fatto, perché adesso, tra virgolette, bisogna sempre stare all'occhio, controllare, perché comunque il vaccino ti salva da, tu lo sai... non vorrei dire una cretinata, però dalla... no meningite, come si chiama? Lo cerco, perché, cioè, è una, secondo me è tipo una forma... Cioè, perché non è... Meningite da becca. Eh, sì, esatto. Meningite, secondo me, si chiama, ma non vorrei sbagliarmi. Da becca. Perché c'è quella lime, sì, è quella, no, perché non è... Non ci si può fare niente. Cioè, è quella meno grave che riescono a curare con l'antibiotico. Allora, malattie da zecca, vaccino, scriviamo. Questo è super importante, questa cosa da capire. Meningoencefalite, i vaccini, contro la meningoencefalite da zecche. Ok, allora era quella. Dice qua, non so se sia giusto, contengono virus uccisi. La loro azione è sostenuta da un sale di alluminio. La vaccinazione prevede tre dosi di vaccino. 0, 2, 0, 2, 4, 6... Allora, 0, quella che parte. 2, 4 settimane, 5, 12 mesi. In seguito, raccomandati richiami ogni 10 anni. Allora, ogni 5. Ma forse magari questa è una notizia vecchia. Noi, oppure quasi come... Qua dice è aggiornato 26 agosto 2024. Però non lo so se è corretto. Però, qua dice comunque anche in un altro 3 dosi. 0, 1, 3 mesi. 9, 12 mesi. E la protezione qua dice 3 anni. Quindi, secondo me, è 3 anni, come ci avevano detto a noi. Le malattie... Sto controllando anche altri. Qua comunque si dicono che ci sono anche altre cose. Borreliosi di Lyme. Che è quella che non viene coperta. Comunque, sì, io non sono un'esperta appunto da... Si sa. Da un punto di vista sanitario. Però, se si controlla la cartina, ci dice che la percentuale più alta, dove ci sono appunto questi rischi con le zecche, è il Nord Italia. E il Rosso Fuoco, zona delle Dolomiti. Quindi, da noi. Io vi dico la sincera verità che... Rimetto, perché avevo la foto qua da farvi vedere, della nostra non amica, acerrima nemica zecca. Non so se si vede. Si vede? Sì. Ok, io l'ho ingrandita a un peletto per farvi vedere le zampine e la testa. E questa è la mia, quella che avevo io oggi attaccata nella gamba. Che schifo, avete ragione. Quindi adesso blocco che quello non ci interessa più, ve lo volevo far vedere. E... No, cosa stavo dicendo? Mi sono persa un attimo. Cosa stavo dicendo? Della zecca? Sì. Della pinza? Della pinza che dovevi vedere. No, ma dopo che... Vabbè, ah, del vaccino. Io ho fatto il vaccino, non ne avevo mai preso. Ma abbiamo pensato comunque di farlo tutti perché abbiamo l'opinionista che lui ha una specie di calamita per le zecche. Infatti lui appena fa un giro, tac, lì si attacca subito la zecca o gli passeggia addosso. Se è appena attaccata, diciamo che è anche più facile staccarla e soprattutto, non lo so se tra virgolette è meno rischioso, io ce l'avevo attaccata invece da tanti giorni perché era anche... si era ingrossata, no? Quindi a noi c'hanno sempre che per il bambino non mi sono mai fidata, eh, non li abbiamo mai tolto e noi li abbiamo sempre portato a far togliere in pronto soccorso. Anche perché lui magari, comunque anche piccolino, piange, si lamenta, io non mi sento, come si può dire, confident assolutamente a togliergli la zecca e allora l'ho sempre portato. Invece su di me abbiamo pensato di provare questa pinzetta perché ho detto comunque io sono grande, comunque non è che mi metto a piangere e sto ferma, ferma di sicuro, no? Invece il bimbo aveva paura che con noi che siamo i genitori si muovesse, è meglio portarlo da un dottore che è esperto e anche gli riesce a spiegare probabilmente meglio la pericolosità e sta fermo. Perché se non viene fatto da fermi, fermi, c'è il pericolo che mentre te la stanno staccando, se si muove, si rompa e rimanga dentro una zampina, la testolina e questo può essere molto pericoloso perché bisogna toglierla tutta. E come fa male toglierla? Eh sì, mi ha dato fastidio, a me sì, non pensavo. Questa è la scatolina, l'avevo presa su Amazon ed è un prodotto, mi pare tedesco, se non sbaglio, molto valido, di cui ne parlano proprio bene bene bene. Bene, arrivava con anche la plastica, si è incastrata, vedete, era qua dentro sigillato e all'interno c'erano varie pinze, che mi viene male solo a vederle perché sono d'acciaio e mi fanno effetto sulla lavagna, no? E c'erano questo tipo di pinze, questa, questa, questa pinza e mio marito, ossia il marito noi lo chiamiamo, si era in formato, la più adatta è questa, ne parlano benissimo. Io infatti ho comprato questo popò di kit, che avevo anche pagato abbastanza, queste sono tutte qua dentro, proprio per avere questa pinza in versione seria, un po' professionale, di questa ne parlano bene, funziona così praticamente. Si spinge, si apre, no? E si prende la zecca, qua così, qua dentro, si fa così, no? E non c'è più bisogno di pressare perché è la pinza stessa che sta chiusa e questo è molto importante perché poi la concentrazione a me l'ha fatto, me l'ha tolto il marito, che comunque sta molto concentrato perché ero già disperata. Praticamente questa fa già il suo lavoro da sola, che tiene ferma la zecca e lui poi cosa ha fatto? Si era ovviamente in formato, l'ha fatta girare così, così, fermo, fermo, fermo senza mai allontanarla, senza mai tirare, girando, 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 girando e guardando bene da vicino la zecca. Che a un certo punto la zecca, ma io non ci credevo perché così bene non avevo mai guardato da vicino con una zecca anche abbastanza grossa, che si era comunque ingrossata perché era lì attaccata, no? Un po', scusate per l'argomento un po' schifoso, però è sicuramente utile da condividere. E praticamente la zecca si stordisce e molla. E quando? Sì, perché gli gira la testa. Ma dai. Sì, sì, se no se tiri così la strappi e rimane un pezzo perché sta ammorsicando, ciucciando, no? E quindi la rompi, invece se la giri piano piano, lui l'ha girata delicatamente così, senza staccarla, molla, si vede che gli gira la testa e quando vede che fuoriesce un pochino la testolina, abbiamo tirato via, ha tirato così, ed è staccata subito, tutta, e poi abbiamo guardato... Potrei vedere chi esce fuori? Cioè, come fai a capire quando? Si è visto, si è visto che è uscita... Ma è talmente piccola, come fai a capire? Ma sai che non era piccolissima sulla mia gamba? Si vedeva. Non era minuscola. Sì, ma dico la testa, come fai a capire quando l'ha girata? Si è vista, si è visto che si è mosso un po', e poi abbiamo guardato, abbiamo, lui addirittura l'ha ingrandita, ha contato le zampine per vedere che non ne fosse rimasto qualcosa dentro. Perché sennò bisogna andare in punto soccorso e chiedere che rimuovano il residuo. Se è rimasto qualcosa, va tolto, non va assolutamente lasciato, perché non va bene, può fare male, può dare fastidio. Ci può fare infezioni. Eh sì, e quindi abbiamo controllato bene, lui ha detto che era anche sorridente, secondo il marito, e non so come facesse a ironizzare. Io, vabbè, non mi sono messa a piangere perché non ho cinque anni, però poco ci è mancato. E dopo lì avevo tutti i sintomi, eh, mi sento male, mi sento male. Ero proprio K.O. tecnico in tutti i sensi. Però questa io, fatta così, no, ve la straconsiglio. Non vi auguro a nessuno, neanche al mio pergiornemico, di prendere le zecche, perché comunque è una scocciatura. E anche perché poi devi stare attento per un mese, almeno. Sì, sì, sì. Il consiglio che a noi hanno sempre dato in pronto soccorso è, adesso vi faccio vedere, scusate i pantaloni che sono vecchi, ce li ho qua a casa che mi fanno un sacco caldo, perché sono, sì, rimasta truccata, tanto oggi eravamo qua a casa a giocare con i bambini, sono rimasta truccata. Mi sono messo un paio di pantaloni vecchi, sinceramente, perché poi ho i brividi, forse un po' tutto, ieri mi ha scombussolato, mi ha abbassato un po' le difese immunitarie e oggi era un po' così. E quindi, sì, scusate la tenuta un po'. Vi faccio vedere, appoggio qua, così se vuoi far vedere, perché è un piede qua sopra, non lo metto che non è elegante. E consigliano di fare questa roba qua, non so se si vede, praticamente con una penna indelebile, con un pennarellino, e si è arrossato un po'. Ok, abbiamo fatto vedere, col pennarellino, praticamente dicono di cerchiare la puntura dove era attaccata la zecca, perché adesso, dove era rosso, perché era attaccata da tanti giorni. Dovrebbe, comunque, passare quel rossore, rimarginarsi dove mi ha morsicato la zecca e dovrebbe sparire tutto, però bisogna cerchiarlo con un indelebile, ricordarsi se si fa il bagno, se si toglie un po' di ricerchiare bene lì, perché bisogna controllare che non faccia assolutamente un alone, mi pare sia bianco, no? L'alone fuori, soprattutto dal cerchio, perché allora bisogna correre i ripari e andare a chiedere, per esempio, la terapia antibiotica. Io, ecco, a noi non è mai successo, perché tra tutti quanti siamo, diciamo, in famiglia, e tutti quanti è capitato prima o dopo a tutti di prendere una zecca, anche al marito. Però, a nessuno è mai successo di avere l'alone, quindi speriamo di no. Vi dico la verità, so un pochettino, ecco, in tensione, perché già di mio non è che ho proprio tutte queste energie fisiche, e sembra strano da dire, ma non ho voglia, non ho voglia, ho già tutti i miei doloretti, ma come tutti, no? Quindi ho un po' paura, ecco, non ho voglia, speriamo di no, che non succeda niente. Ma no, dai. Perché da stare bene a stare male è un attimo, secondo me, in generale, però cerco comunque di farmi forza, di pensare positivamente. Quindi oggi, ecco, non mi sentivo di fare make-up, unbox, e anche perché proprio ieri è stata una giornata stranissima. Alla fine è andato, sì, un po' tutto così, un po' anche peggiorando, perché poi non ci si sentiva proprio in forma. Poi, vabbè, cavolate. Anche gli elettrodomestici, c'era delle cose che non volevano funzionare, si è rotta completamente, nuovissima, di pacca, la grattugia di quelle che grattano il formaggio schiacciando, per dire, è una cavolata. Però, tutte cose, varie cosettine che andavano storto, male, però era Halloween. Sembrava tipo le straghette che ci facevano i dispetti, i fantasmini che ci volevano fare i dispetti, no? Oggi ho voluto, come si dice, forse in Veneto, straviarmi. Non so. Non lo so, vuol dire svagarmi un attimo e non pensare a nulla, e quindi ho giocato col make-up insieme a voi. E così ho voluto condividere, insomma, quello che è successo. Sapete che ci sono momenti belli, ma siccome siamo esseri umani, anche noi qua, ci sono anche dei momenti così, un po' più giù, un po' più brutti, come questo. Niente assolutamente di tragico, però ognuno, diciamo, ha il suo, no? La vista di quello che gli succede. E quindi il suo metro di misurazione. In questo momento, ecco, in cui io comunque avevo in mente non di andare a fare chissà cosa, perché sapete che io non è che sono tanto né per le gite fuori porta, né per i viaggi. Nel senso che comunque sono stanca dal lavoro di tutti i giorni, e quindi la mia unica mira era quella proprio di riposarmi, di rilassarmi e di sistemarmi. Ecco, un po' di disordine che ho accumulato di cose mie, vestiti, volevo un attimo sistemarmi bene il cambio stagione. E poi, per una cosa o per l'altra, ecco, sto ammucchiando, perché poi ho sempre la testa che mi va un po' in preoccupazione, perché io, si sa, poi no? Di queste cose mi preoccupa il terrore. Infatti io ho voluto fare il vaccino a tutti, perché a tutti qua a casa, anche al marito, proprio tutti i tre i ragazzini l'hanno fatta, perché ho proprio paura. È pericolosissimo. Quindi io, se siete in zone, cioè, vi consiglio di farci almeno una pensata, di informarvi, di avere in casa almeno essere armati per combattere queste zecche, che almeno avete la possibilità, se non avete un pronto soccorso vicino, di aiutarvi anche da soli. Però se non ve la sentite di utilizzare questa, in pronto soccorso, in tutti i pronto soccorso, sono gentilissimi e le tolgono le zecche. E ovviamente, almeno stando alle ultime volte in cui erano andate degli adulti che conosco, si pagava, per togliere ogni zecca si pagava. Invece i bambini, no, perché sono bambini. Ecco, noi per i bambini non abbiamo mai pagato, ma sinceramente abbiamo avuto sempre solo l'opinionista, che è il piccolino. Una volta anche l'aiuto regista. È vero, sì, una volta anche l'aiuto regista, io terrorizzata, perché non sai mai, anche se fa infezione, che a me mi parte un'ansia che mi dura un mesetto, perché per un mese bisogna stare molto attenta a tutti i segnali. E di tanto più ero stata male nell'ansia quando le ho prese la prima volta e non era vaccinato. Adesso diciamo che almeno abbiamo il vaccino, e sì, speriamo bene, ecco, speriamo che mi vada bene, perché ho paura. Non è molto credibile oggi col make-up, però volevo da un lato sdramatizzare un attimo, anche perché avevo comunque due occhiaie pazzesche e quindi... Vabbè, ci hai messo il colore rosso, un po' viola, dai. Invece di coprirle ho fatto così, ecco. Ah, niente, fatemi sapere nei commenti se a voi è mai capitata questa cosa un po' antipatica. Se vi va, consolatemi con un commento. La parola segreta di oggi è mannaggia. E potrebbe essere carino un semplice cuoricino del colore che amate di più, per darmi un po' di coraggio, no? Eh sì. Eh vabbè. Al massimo, se mi toccherà andare a fare un giro per dire che non mi sento bene, mi farò dare anche qualcos'altro. Per la gola, eccetera, eccetera. Per l'orecchio, per la gola, per la zecca. Facciamo un po' un combo per il mal di testa. No, scherzo, sono tutte cose passeggere che passano, era passeggere anche la zecca, se n'è andata. Ho dovuto un po' scacciare, l'ho sfrattata, l'ho sfrattata. Però sì, un po' antipatica la cosa, ovviamente non è mai simpatico quando succedono queste cose qua. Sì, ci sono un po' scocciature, ecco. Però sono cose, si spera, piccoline che si risolvano. Nel caso di questa non era tanto piccolina. Ecco, era un po' XXL. È bella pasciuta, era bella cicciona quando l'abbiamo staccata, bella... Si era gonfiata tantissimo. Mi è sembrato strano di non accorgermi, anche perché avevo male alla gamba. E il giorno prima avevo proprio detto, sto in piedi un po' perché mi sento male, mi fa male la gamba. In un modo diverso. Di notte mi sono svegliata tantissime volte perché avevo male alla gamba e non capivo, e non capivo. Però mi guardavo dall'altra parte della gamba perché ce l'ho appena dietro nella parte interna. E chissà come mai non l'ho vista. Secondo me mi sono guardata in modo distratto. Siccome sull'altra gamba, nella zona più o meno, ho un neo, secondo me da lontano non ci vedo bene. Mi è sembrato un neo. Sì. Anche se non so cosa potrà pensarne, chiediamo alla regista cosa ne pensa. Di cosa, di questa cosa? Eh, che sì, sono cose che capitano, come detto tu, sono antipatiche e niente, forse era meglio che stessi più attenta, nel senso di accorterti prima, più che altro. Diciamo che beccarla proprio ad Halloween era un certo scherzetto. Sì, veramente, davvero. Io che facevo lo scherzetto a voi di girare le scritte, no? E nel mentre, che giravo scritte, facevo scherzetti, ce l'avevo attaccata addosso e c'era qualcun altro che faceva lo scherzetto a me, no? Ecco. Eh, vabbè, dai. Allora, speriamo, sì, andrà tutto bene. Sì, 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 andrà tutto bene. Sì, io vi ho terrorizzata, ve lo dico, ho proprio paura. Quindi da ora mi è sbloccata una nuova fobia, anche perché a me, sinceramente, sapete che sono allergica a alcune cose. Con la zanzara mi era venuta dei panetti così, dalle punture. Con il ragno, anche una volta su questa punta da un ragno, mi è venuta una roba così, tremenda, che ho dovuto trattare, ho dovuto curare. Mi è messo una roba dolorosissima e enorme nella schiena. Mi ha preso tutta la schiena questa puntura e mi faceva un sacco di nausea, di testa. Mi sentivo proprio male, quindi non ho voglia. Addirittura uno scorpione mi ha punto una volta. Cioè, quindi, capito. Uno scorpione mi sembra che non siamo in tantissimi. No. Non sono stati i punti dello scorpione. Dentro casa mi era entrato. Anni fa, che abitavo al pieno terra, non so come ha fatto, è entrato dentro casa, è entrato nelle mie ciabatte e quando mi sono alzata la mattina, ho messo il piede nella ciabatta. E mi è si è attaccato e non c'era avverso di staccarlo. Poi mi sembrava anche antipatico, cattivo, mi guardava storto. Malissimo, perché si è attaccato sia col tenaglietto, sia con la coda, con qualcosa, non lo so, con la bocca. Quindi ce l'avevo, io non lo guardavo e mi faceva troppa paura. E mi ha importato, per fortuna non ero da sola a casa, mi ha importato in pronto soccorso perché non riuscivamo a staccarlo. Si era proprio attaccato. E in pronto soccorso mi ricordo che la prima cosa che hanno fatto non è stata quella di staccarlo, ma di cercare di capire un attimo. Se fossi italiano oppure no, perché non mi ricordo bene la storia, ma tipo ce n'è una specie che non si trova qua in Italia. Non so se si è tipo egiziana, non vorrei dire una roba particolare. Forse se le lo chiedo a Google cosa ci dice, aspettate. Scorpione, cosa devo chiedergli? È velenoso lo scorpione italiano. Dicono lo scorpione italiano è poco velenoso e per nulla aggressivo. Eppure a me mi ha morsiccato. Quali sono gli scorpioni mortali? È il Leirus quiquestriatus, che possiede il più portente veleno della sua famiglia. Ok? E di dove? Scorpione è velenoso. E se gli scrivo? Ecco. In Egitto, dicono, lo scorpion king trasforma il veleno in denaro. Ok, forse non è. Un film? Non lo so. Egitto, invasione di scorpioni letali. Un veleno che potrebbe allungare la vita. Ma allora, questi fanno bene, non fanno bene. Qual è lo scorpione più letale al mondo? Vabbè, comunque, qua, non dice precisamente di dov'è, comunque, quella volta mi hanno detto che se era nostro, non c'era nessun pericolo. E come facevano a capirlo? Cioè, glielo chiedevano, scusi, lei è italiana. Avevano le fotografie, poi avevano chiamato degli esperti, perché poi all'epoca... Sì, intanto, ora che facevano, cioè, quanto tempo è passato, ora che... È successo vent'anni fa, una mattinata tutta. Cioè, nel senso, c'era velenoso, cioè, voglio dire... Sarei andata anche velocemente, perché ora che me lo dicevano, no, perché forse possono fare qualcosa, qualche antidoto, però non me lo davano se non avevo la morsicata del... Eh, ma non te lo possono staccare intanto? Sì, sì, poi me l'hanno staccato, hanno aspettato un attimo, però forse è perché la persona che l'ha staccato, proprio, secondo me, non c'era in quel momento, perché mi è successo vent'anni fa a me questa cosa, e non c'era neanche tanto, diciamo, internet, i telefoni, quindi erano un attimo con un passaparola in quel momento, perché a me mi avevo... Io poi ero spaventatissima, gli avevo chiesto, ma cosa succede? Eh, dobbiamo capire se è italiano. Io, scioccata, stavo sberendo, ho detto, scusate, come lo capiamo ora? Allora, io lo chiediamo? E io così lo guardavo, cioè non già posso fare staccate, me lo... Stavo cercando di fare telepatia con lo scorpione, dai, dimmi se sei italiano! Io così, sì. E quindi, sì, anche quella è stata un'esperienza un po' così, so che l'hanno messo in un vasetto, immediatamente, dopo ho staccato, l'hanno tenuto là, finché arrivavano degli esperti, per capire precisamente con sicurezza, e a me mi hanno lasciato là ad aspettare, che tipo... E tu mi hai dato in ansia. Cioè, ma così, non potevi, ho pianto tantissimo, ero terrorizzata, e mi chiedevano, sei andata a fare legna, ma che legna? Ero a casa, dentro casa, no, ma non è possibile, perché potrebbe essere arrivato con la legna, ma io non avevo caminetto, non avevo la stube, non avevo un corno di niente, però ero al piano terra, e quindi in una zona comunque di campagna, anche quella volta, e quindi poteva essere entrato tranquillamente da fuori, no? E perché mi hanno detto, non è che ce l'aveva lei addosso, si imborsetta, poi giro sempre con due o tre scorpioni, ovviamente non è che come la zecca ti accorgi se è uno scorpione attaccato addosso, anche perché questa era una sberla, così, io terrorizzata, tra l'altro anche loro con i guanti in quassù, staccarlo, perché hanno paura che si girava, di quelli grossi, sì, che si girava e li beccasse, perché poi quello italiano non è molto velenoso, ma non è detto che non sia velenoso? Perché non sapevo neanche se era italiano o se era quell'altro. Mentre me lo staccavano ancora, no? Eh. E poi l'hanno messo preso nel vasetto, eh sì sì sì. Sì, noi ridiamo. Noi ridiamo, non c'è niente da ridere, perché io in primis ero l'interessata, soprattutto, e quindi ok? Sì. Va bene, fatemi sapere nei commenti se a voi vi ha mai morsicato qualche animaletto strano, come avete affrontato la cosa, se vi siete spaventati tantissimo, e soprattutto fatemi sapere come vi sentite. Per il quizettone cartone animato, chi avevamo ieri? Don, don, don. La regista è spaesata. Sandy. Ah sì, è giusto, Sandy. E Tinetta. Tinetta ha recitato nel cartone animato E Quasi Magia Johnny, ok? Invece Sandy in Sandy dei Mille Colori. Super carini tutti e due, in E Quasi Magia Johnny, c'era appunto Johnny il protagonista, che aveva dei poteri magici di telepatia e soprattutto di un fascino incredibile. e Sandy dei Mille Colori faceva le magie con i, tipo i fiori, era la figlia di questa coppia, che se non sbaglio, se mi ricordo bene, aveva un negozio di fiori, quindi aveva i Mille Colori dei Fiori, con i fiori, io non me lo ricordo bene, ma mi pare tutti i cuori gioiranno insieme a te, Sandy dei Mille Colori, una roba così. Invece Johnny, iconico, Johnny, E Quasi Magia Johnny. Io sto andata come una campana, quanti come me? Dite-melo nei commenti. E io amavo tantissimo il cartone animato tra questi due, il mio preferito era E Quasi Magia Johnny. Ero pazza, uscivo pazza per Johnny. Per Johnny. Sì, tutte innamorate di Johnny. Io sognavo non di essere Tinetta, ma di essere Sabrina, perché poi avevo i capelli neri, così, allora anche io li avevo neri, mi sentivo troppo toga, poi era un po' ribelle, era quella toga, io assolutamente no, non ero quella toga, però è bello immedesimarsi e immaginarsi nei personaggi, perché ti danno così un po' di grinta, diciamo, e Johnny era un bono da paura, con quel frangettone, così, mi piaceva un sacco, benché io abbia, diciamo, una simpatia particolare per i biondi. Eh, però Johnny era Johnny. Però Johnny era Johnny, poi era così telepatico, no, bellissimo, l'empatia di Johnny, bellissimo, mi piaceva tantissimo, io pazza di Johnny e del cartone animato in generale, e erano super simpatiche le sorelline di Johnny, il gatto, lo facevano volare, le tue sorelle erano due pazze furiose, simpaticissime, super super carine. E Sandy, invece, ecco, mi annoiava un po', perché faceva queste magie, ma non la trovavo brava, come le altre maghette dello studio Pierrot, perché, secondo me, le altre maghette avevano una marcia in più. Non lo so, ditemi voi. E quello di oggi, da indovinare? Quello di oggi... Hmm, è difficile, eh? Mi Dori. Ce l'ho già sentito, ma non mi viene. Eh, lo so, ditemi dove recitava Mi Dori. Qua oggi è difficile, molto difficile, però, 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 chissà, chissà, chissà. Se qualcuno è così brava e ha guardato attentamente i nostri cartoni, quando eravamo piccoline e piccolini, secondo me Mi Dori lo indovina tipo così, immediatamente. Bene, io direi che abbiamo almeno fatto una chiacchierata, oggi, purtroppo, non c'è make-up, perché io non me la sentivo e non ero dell'umore giusto, ma volevo lo stesso condividere con voi il mio stato d'animo. Fatemi sapere cosa ne pensate di quello che mi è successo, cosa ne pensate un po' in generale delle zecche. Io, no, non sono tra gli animali che preferisco, non li trovo cute, sono invadenti. Ecco, perché... Potete stare anche per conto vostro. Dovevano stare nell'oro, non devono venire più ad attaccarsi addosso alle persone, ok? Che si cercassero e si facessero una loro vita, non possono mangiare due foglie di lattuga. Sì, come fanno le lumachine, mica vengono... Infatti, sono così belline le lumachine, invece le zecche vengono e si attaccano come una zecca, ok? Infatti, infatti, io no happy, no, 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 così proprio. Alle zecche pollicino in giù, invece mi raccomando, ricordatevi di lasciarci un pollicino in su, super coraggioso, ok? Per darmi coraggio di avere lo stesso, il sorriso, anche in questo mese in cui avrò un po' di caccarella dalla paura, ok? Avrò un po' di paurina. Però, passerà. Almeno facendo il conto, per dicembre, novembre, mi è sempre fatto abbastanza depressione, tanto più avrò depressione a questo mese di novembre, perché starò preoccupata per tutto il mese, però almeno mi ricorderò perché tutto il mese. So che a dicembre sono felice, non ci penserò più, almeno spero, speriamo. Speriamo, ok? Amo. Ok. Adoro non c'è. C'è famo, ok? E condividete con tutte le amiche e gli amici che hanno bisogno di sapere che esiste la pinza perfetta per togliere le zecche, che non sbaglia il colpo, anche alla prima volta che viene utilizzata, perché per noi eravamo degli inesperti, però con questa siamo riusciti a risolvere il problema che avevamo. E se non siete iscritte e iscritti al canale, mi raccomando, iscrivetevi per supportarmi e per farmi vedere che mi sopportate. L'iscrizione ovviamente è gratuita e come dico sempre, io c'era mancai altra cosa. Come sempre vi mandiamo un bacio grande, grande, grande e ci vediamo nel prossimo video. Fate le brave e i bravi. Buona serata. E abbiate sempre cura di voi.